ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo come vedete dalla nostra grafica ci attende una settimana con questi ingredienti ovvero tanto sole pochi temporali ma più che altro sulle alpi e con un caldo affoso intenso infatti se diamo uno sguardo alla nostra grafica delle temperature massime possiamo vedere che nel corso dei prossimi giorni avremo temperature che andranno dai 32 ai 40 gradi e con punte che localmente potranno toccare addirittura i 41 42 gradi ma adesso diamo uno sguardo alla previsione nel dettaglio per la giornata di martedì ebbene splendere il sole su gran parte delle nostre regioni con un po di nuvolosità maggiore al nord e di rischio di qualche pioggia o temporale sull'arco alpino e anche al nord ovest questa è una previsione che ovviamente ha un indice di affidabilità molto alto che si attesta tra il 90 ed il 95 intanto io vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione potete o consultare il nostro sito www.meteo.it oppure potete scaricare la nostra applicazione gratuita